Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Normalità a Milano e scandalo a Torino. Sono uscite gli audio della VAR. Per quanto riguarda la partita di Milan-Genoa del gol di Pulisic è tutto rientra nella normalità, non come quello scandalo che uscì dopo Bologna-Juventus. Non per i due rigori e gol annullato alla Juventus, due rigori che non hanno dato alla Juve e gol annullato alla Juve, ma per quell'episodio in cui si doveva assolutamente dare il rigore al Bologna. Episodio per il quale l'arbitro e i suoi assistenti hanno preso quattro turni di ferie perché Rocchi non blocca nessuno, non ferma nessuno. Lui li manda in ferie. Lo stesso Rocchi ha latitato totalmente in questo episodio. Vi vado a far sentire l'audio del VAR. Sono due pezzi in cui c'è un pezzettino che fa venire i brividi. Sedetevi comodi, prendetevi un bel caffè, due tazze di calmante questa volta, soprattutto se siete giuventini. Prima di partire con il video, come sempre, come sempre, io vi invito e vi chiedo di condividere il più possibile perché questo schifo sta uscendo veramente con il contagocce. Ed è giusto che noi, almeno io nel mio canale, ve lo porto come giusto che sia. Vi farò vedere l'immagine dello stop di Ascella, come dicono qua i nostri addetti ai lavori, e anche l'audio dei VARIS e poi dopo lo commentiamo assieme. Mi raccomando, condivisi una manetta, un bel like per supportare il video e naturalmente aspetta la fine, se ce la farai, a rimanere sveglio e a non distruggere il tuo PC o televisore ovunque tu mi stia guardando per commentare con il tuo pensiero. Basta ascoltare il pensiero degli altri, cominciamo a far sentire il nostro che diventa molto, molto punzecchiante e fastidioso. Quindi facciamolo sentire. Partiamo con l'audio del VAR che ha del magico, oserei dire io. Tutto nella normalità. Naturalmente vi faccio vedere anche le immagini. dal cross che prima non c'era nulla. Va bene, fatta da qua. Sì, sì, sì. Ma sembra tutto buono. Sì, sì, adesso vediamo. Imbarazzo in studio. Cross è pulito, non c'è fuori gioco. Giusto? No, fammi rivedere il cross se c'è fuori gioco. Allora, non ho bandidine. Benissimo. Vabbè, intanto vai, avanti, tutto pulito. Vado avanti, poi ce n'ho una a blu. Qui ti metto la GLT che il pallone è lì. Sì, vai. Qui ho un pallone a blu. Sì, va bene. Ok, vado avanti. Devo vedere se la stoppa di mano poi. Ok. Devo guardare se la stoppa di mano, ok? Sì, sì. Vai, aspetta. Deve guardare. La stoppa con l'ascella. Qui in questo movimento. Sì. Cerco la regola, la reverse. Sono colpito da qualcosa, tu mori, eh. Ascella. Io ve lo fermo nella scella. Vedi se c'è qualche immagine. Una ultra... Un'altra camera che... Mi devi dare la reverse. Ma guarda, ti do questa anche. Vai. Questa qua. Fammi, metti un po' il fermo immagine là. Aspetta che è difficile, sto controllando. È difficile. L'ultra macchina è passata adesso. No, la... Le... Le... Le PTS. Le PTS. Eh... Non ce l'ho ancora disponibile. Le PTS, le retro. Ah, le PTS. Non sanno nemmeno cosa sono. Eh, vai. Eh, sono... Guarda, ti do questa. Adesso ti manda... L'opposta. La quattro. Sì. Aspetta, adesso sto guardando tutte le camere. Sta guardando tutte le camere? Scusa, ma ti do questa. C'è questa. Che è il super slumo. Piano. Non lo so. Piano. Stanno controllando tutto. Stop. Non lo so. Ehi, qua. Ok. Fermate, Marco. Dietro. Avanti, 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 avanti. Io vi faccio vedere in loop sempre il video della tocco di mano. Gira adesso. Girale tutte adesso. Allora, questa è la... Girale adesso. Girale tutte. Questa è la steady. Questa può essere utile. Questa è la reverse. Questa? Sì, un secondo. Questa. Fammi vedere se qua c'è questo stop di... Stop. Che la prende con la mano? Ma che la prende con la mano? Ma che stiamo a scherzare? Ma che la prende con la mano? Ma no. Ma che la prende con la mano? Ma volete scherzare? Ma attenzione perché va avanti. C'è un altro piccolo particolare. Ve lo faccio sentire adesso perché ha dell'assurdo anche questo. Sentite qua. Ti do quest'altra. Sì. Questa non mi piace. Controlla quelle che fanno vedere là. Questa non mi piace. Questa immagine che gli ha mandato non gli è piaciuta. Quindi, fai vedere quelle che dico io. Questa non mi piace, ragazzi. Vi ricordo che per quanto riguarda proprio l'episodio, Bologna-Juventus ha parlato addirittura per mezz'ora di questo episodio, Rocky, il designatore degli arbitri, il designatore che per quanto riguarda questo episodio ha latitato. Ha scelto di non metterci la faccia. Ed è assolutamente inquietante quello che sta succedendo. Naturalmente c'è qualche youtuber che ne parla. Giustamente i media stanno smontando immediatamente il tutto. Perché c'è stata la Champions League. C'è da fare i complimenti a chi ha vinto e a prendersela con chi l'ha persa. Piccola parentesi, Champions League. Il Milan va a fare figuracce in Champions rubando il posto alla Juventus. Non è il Milan, attenzione, che ruba il posto. Il Milan non c'entra niente con tutta questa cosa qua. È il sistema che gli ha regalato questa partecipazione alla Champions League. Che giustamente stanno indegnamente portando avanti con i risultati che possiamo vedere. Ma adesso dobbiamo parlare proprio di questo perché Bologna-Juventus, tre settimane di scandalo. Quattro turni di fermo per arbitro e collaboratori nonostante ci siano stati tre episodi contro la Juventus molto gravi. Non visti, ma la punizione o le fedi sono arrivate per l'unico episodio che teoricamente avrebbe sfavorito il Bologna. Perché? Perché così si falsifica un campionato. Invece in questo modo non si falsifica nulla. Ora, ho sentito anche dire a alcuni addetti ai lavori che ci vorrebbe un professionista delle immagini insieme ai varissi. Cioè quattro persone per vedere un'immagine che tutti a velocità normale. Abbiamo detto fallo perché la palla è innaturale. Che se arriva in questa maniera e stoppa il braccio qua, cade giù. È innaturale. Deve fare un angolo di rimbalzo. Se invece arriva per così, stoppa qua e cade giù. Un motivo c'è, lo abbiamo anche visto. Tutto questo non ha portato a nulla. Addirittura al VAR si dice, dammi un'altra immagine perché questa non mi piace. Queste sono scelte. Al mio modo di vedere. Si devono chiamare le cose con il proprio nome. Queste sono scelte. Non è errore. Non è che non sono competenti. Non è incompetenza. Questo, come nell'episodio di Torino Inter, in cui viene calciato il piede di Belotti e si dice prima prende la palla e poi il piede. Queste sono scelte, scellerate, per non dire, di persone colluse. Perché è chiaro che con il VAR si vanno a decidere i campionati. Infatti così è stato negli ultimi tempi. Questi sono episodi che a velocità normale si possono rivedere. Il VAR interviene. Deve chiamare l'arbitro. Un check di due minuti, chiuso con non c'è niente. Gol, gol, vai. E perché Rocchi non parla? Tutti noi stiamo aspettando Rocchi, ma naturalmente i giornali non lo dicono. Si presenta un altro a parlare due minuti, fanno sentire questo audio e poi naturalmente si chiude il tutto. E quindi, visto che qualcuno si lamenta, e siamo arrivati alla fine e ve lo racconto, visto che qualcuno si lamenta che parlo sempre di scandalo a San Siro, scandalo Milan, scandalo Inter, allora lo sottotitoliamo proprio così. Lo chiameremo Normalità Milan, anzi, Normalità a Milano, scandalo a Torino. Semplice. Così non vi lamentate. Però la realtà dei fatti rimane sempre. Quella che da quando c'è il VAR succedono cose che senza il VAR si potevano anche giustificare come errori. Ma con il VAR dire che sono incompetenti è giustificare. Una falsità che va avanti ormai da anni. Detto questo, il video finisce qui. Dimmi tu con il tuo commento che cosa ne pensi se sei arrivato fino a qua. Sei un supereroe, non ti rimane che... Commentare questo video. Vi sono troppo in alto. Ok, commentare questo video e mettere un bel like. Condividi se ancora non l'hai fatto. Mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato. Ogni qualvolta uscirà un nuovo video. Su Instagram, come dico sempre, mi potete contattare in privato peter underscore pan underscore bianconero. Tanti di voi già lo stanno facendo e per questo vi ringrazio davvero. Di cuore il video finisce qui. Io vi saluto, un abbraccio e... Ciao, io!